Ci troviamo nel luogo dell'ultima cena, al Cenacolo appunto, in cui Gesù ha pronunciato queste parole, amatevi gli uni gli altri. È bene però capirci un attimo su cosa intendiamo quando parliamo di amatevi, amarci, amore. È una parola oggigiorno molto legata al sentimento, amo qualcosa o qualcuno se sento dentro di amare. In più è una parola un po' ambigua perché si può amare la mamma, il papà, amici, ma si può amare anche la pizza, si può amare la musica, si può amare il gatto, si può amare tante cose, ma è un modo di amare sostanzialmente diverso evidentemente. La parola che viene usata nei Vangeli è la parola agape e va molto oltre l'amare sentimentale. È un modo di amare che non si aspetta nessun tipo di tornaconto, un amore incondizionato e un'immagine che ben rappresenta questo modo di amare è l'immagine del pellicano, che è uno dei pochi simboli cristiani che sono rimasti in questa sala, infatti non è più, non è un luogo cristiano, una moschea, perché lungo i secoli ha subito vari processi di trasformazione, adesso appartiene allo stato ebraico e non è possibile celebrare messa, salvo in alcune rare occasioni. Oramai è un luogo praticamente a confessionale, ci sono pochissimi simboli religiosi e uno dei pochi simboli religiosi rimasti cristiani è un capitello in cui è rappresentato un pellicano. Il pellicano è un animale che appartiene all'immagine antica dell'agape, infatti secondo la leggenda il pellicano per dar da mangiare ai propri figli si ferisce il petto dandogli il proprio stesso sangue, come ha fatto Gesù peraltro, che ha dato se stesso in sacrificio per tutti noi. Ma amare è anche un comandamento, ma come si fa a comandare di amare? Per di più in questo modo qua. I comandamenti secondo la tradizione ebraica non erano soltanto delle leggi, ma erano una via per camminare e stare alla presenza di Dio. Nella congregazione salesiana noi abbiamo un documento che si chiama Costituzione su cui professiamo, che sono il testamento di Don Bosco. All'interno delle Costituzioni, sono 196 articoli, abbiamo l'identità salesiana, chi è il salesiano? E l'ultimo articolo, numero 196, dice che queste Costituzioni vanno pregate, meditate, praticate e sono una via che conduce all'amore. Quindi amare non è soltanto qualcosa da fare, è una direzione, è un luogo in cui abitare, rimanere. Non a caso Gesù, prima di dare questo comandamento, dice rimanete in me, rimanete nel mio agape. Ogni via però prevede una scelta, voglio andare in questa direzione. Quindi l'abbracciare, il scegliere l'agape, è qualcosa che appartiene alla mia identità di cristiano. Quindi una domanda che posso farmi è ma quanto sono cristiano? Quanto sono discepolo? Andiamo adesso a vedere tre immagini di questa via che magari ci possono aiutare, presi dai episodi del Vangelo che sono successi qua nei paraggi. Andiamo. Alla prossima Ci troviamo di fronte all'ingresso della Basilica della Natività. Sono abbastanza sicuro che sia uno degli ingressi ad una basilica più piccoli del mondo, è alto circa un metro e trenta centimetri, ed è così in realtà per ragioni storiche, perché in periodi non cristiani c'era il rischio che usassero la basilica come stalla oppure portassero dentro gli animali per depredare le cose che i pellegrini portavano. Così a via via lungo i secoli è stato ridotto ed è così da circa cinque secoli. Ma curiosamente rappresenta anche la strettoia che Gesù ha preso per incarnarsi, per venire al mondo. San Paolo usa una parola particolare, la parola chenosi. Gesù si è svuotato dei suoi privilegi divini, si è alleggerito ed è diventato uomo per farsi nostro compagno. Questa leggerezza è un po' quella che chiede anche al suo discepolo, ai suoi discepoli, a cui dice di non portare nulla con sé, se no una tunica, un mantello e un bastone. Questo perché quando si è leggeri, se necessario, ci si può abbassare. E questa è anche la via se si vuole un po' voler bene entrare nel cuore di qualcuno. Non a testa alta, prevaricando, ma con la disponibilità di abbassarsi, se necessari. Abbassare un po' la voce, abbassare un po' le pretese. Qualcosa dentro muore, ma poi ci si sente più leggeri. A Gerusalemme, noi salesiani, viviamo in una comunità di 45 confratelli e da più di 20 nazionalità diverse. Capite che se uno cerca di imporre i propri usi e costumi a tutta la comunità, si diventa matti. Allora ci sono due vie che si scendono. Una via larga, che è quella dei rapporti di buon vicinato, in cui non ci si dà fastidio, ma di fatto non ci si compromette neanche troppo. Ognuno difende i suoi spazi di libertà e di abitudini e si va avanti così. E poi c'è una via stretta, quella in cui bisogna capirsi, bisogna confrontarsi, bisogna discutere se necessario, ma così facendo il rapporto cresce, non rimane fermo, plastificato, diventa vivo. Per farlo è necessaria un po' di dieta, appunto. Bisogna alleggerirsi. Dieta dell'orgoglio, non tanto della pancia. Chiediamo al Signore la disponibilità per mettere un po' a dieta l'orgoglio che a volte ci appesantisce tanto e rende difficile abbassarci e seguirlo nelle vie che decide di percorrere lui. Il capitolo 9 del Vangelo di Giovanni parla di una guarigione. Gesù è con i suoi discepoli a Gerusalemme e a un certo punto incontrano un cieco. E subito i discepoli gli chiedono «Maestro, ma chi ha peccato? Lui e i suoi genitori». In quel tempo, infatti, si credeva che i mali fisici fossero legati a dei peccati, a delle cose sbagliate che uno aveva fatto e si ripercuotevano sulla salute presente di una persona. Si chiamava retribuzione. Tu avevi sbagliato, tu o i tuoi familiari avevano sbagliato e ti ritrovavi addosso dei problemi, delle malattie a causa di quegli errori. Gesù però dice «Nei lui e i suoi genitori hanno sbagliato. Lui è così perché si deve manifestare la gloria di Dio». Allora prende e fa del fango con la saliva della terra che è lì, lo spalma sugli occhi di questo cieco e gli fa «Vai a lavarti nella piscina di Siloe». Questa piscina, questa che vedete, mi trovo sui gradini, era una piscina enorme. Era un mikveh, un bagno rituale. Vuol dire che gli ebrei venivano qua prima di entrare al tempio e si purificavano. Entravano nell'acqua, facevano la purificazione rituale per poi accostarsi al tempio e a quello che dovano fare. Il cieco viene qua, si lava la faccia e guarisce. Però Gesù non si limita a guarirlo, ribalta la logica del vedere e del peccato. Infatti alla fine del Vangelo dice che il peccato non sta tanto nella cecità patologica, non è un problema di diottrie, ma il peccato sta nel credere di vedere. Tant'è che dice ai farisei «Se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma visto che dite noi vediamo, il vostro peccato rimane». Cosa vuol dire? Che molte volte, quando crediamo di vedere, in realtà non stiamo vedendo per davvero. Tant'è che anche loro, sia i farisei che anche i genitori di questo povero cieco che poi si incontrano, discutono, ma è tutto un problematicizzare. L'unica cosa che non vedono è il miracolo. Vedono il problema che Gesù ha fatto il miracolo di sabato, vedono il problema che è un peccatore, un sacco di questioni, ma non si vede la cosa in sé. Molte volte capita anche a noi, no? Che magari nel guardare l'altro non vediamo lui, vediamo le nostre fisse, vediamo i nostri principi che in qualche modo proiettiamo e vogliamo imporre. Iniziare a voler bene, iniziare ad amare, significa allora prima di tutto iniziare a guardare l'altro per quello che è, partire da lui e non partire da me. San Paolo quando scrive agli Efesini nel primo capitolo dice io prego perché Signore illumini gli occhi del vostro cuore, perché vediate a quale speranza lui vi ha preparati. Chiediamo davvero questa grazia in questa quaresima, perché anche noi, i nostri occhi, gli occhi del cuore, quelli che vedono per davvero, vengano illuminati. Possiamo vedere la speranza che c'è in lui e negli altri. Grazie a tutti. Ci troviamo nel convento della flagellazione. Qui inizia la via dolorosa, una via che attraversa la città da est verso ovest e finisce al Santo Sepolcro, il luogo della crocifissione della sepoltura di Gesù. La flagellazione in generale e tutta la passione di Gesù ci ricorda che voler bene implica farsi male, soffrire un poco, perdere qualcosa. A noi può venire spontaneo difenderci quando questo succede. Gesù però non si difende, poteva sottrarsi, ma decide di porgere l'altra guancia, come dice il Vangelo. E non è una forma un po' così di masochismo. È perché evidentemente non c'era altro modo. A volte capita che infatti facendo male a qualcuno ci accorgiamo di quanto abbiamo sbagliato. D'altra parte però abbiamo anche l'illusione che fare del male a qualcuno ci faccia stare meglio. Scrivendo, parlando, urlando, mormorando. Sono tutti modi per in qualche modo ristabilire la giustizia. Ma non funziona tanto così. Possiamo scaricare un po' di frustrazione sugli altri, può essere un bisogno, ma a volte però chiudiamo il cuore alla misericordia. Non capiamo la ferita che c'è dietro magari a certi atteggiamenti. Perché dietro certa violenza appunto può esserci una ferita non guarita. E poi magari ci ritorniamo a noi stessi, non ero in me. Ci si pente, però ormai la frittata è fatta, anzi il male è fatto, è inciso. Allora capiamo quanto è importante avere qualcuno che non si difende, è capace di incassare il colpo e dare tempo a noi di cambiare, di convertirci. È quello che fa Gesù. Sta lì, le prende. Ma non è un prenderle passivo. Lui perdona e intercede. Capisce, perdona e intercede. Padre perdonali perché non sanno quello che fanno. Vuol dire una disponibilità anticipata a perdonare sempre. Chiediamo in questa Quaresima la grazia della pazienza, che sia proprio il tempo in cui facciamo nostra la misericordia di Dio e permettiamo alle persone che abbiamo intorno all'altro di poter cambiare. Perché come dice Dio, io non gioisco della morte del peccatore, ma che si converta e viva. La Madonna dice a Don Bosco durante il sogno dei nove anni, che è il sogno che un pochettino profetizza tutta la sua missione, Giovannino abbi pazienza, a suo tempo tutto non comprenderai. Lui non ha pazienza, in quel momento è super agitato. Pazienza, a suo tempo tutto comprenderai. Che i piccoli fastidi e le piccole contraddizioni quotidiane possano allenarci in questo esercizio.